Ciao ragazzi, in questo video vi dirò una tecnica per fare le carrette automatiche dove tu metti il piove che vuoi o acqua, questo qui è tipo una, voi fate cliccate e vi esce, o che vi dirò come si fa? Fatemi salire nel supermercato, no, tipo qui, che è le patate, qui ci sono le carote, qui la mirada d'oro, qui le angurie, Ok, adesso ne facciamo noi con voi, siete pronti? Vediamo che ho preso tutti i materiali, eccoci qui ragazzi, ho preso un po' tutto, Io ho preso il blocco mallone, basta che voi fate così, uno, due, 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 altro tre quadrati, aiutate da con cui, fate così, mettetemi lì, e non esiste nella domanda, Voi fate qui, mettetevi qui, stanno parlando i miei nonni e i miei pa, insieme, mettete poi il vetro così, poi facciamo così, Prendiamo Prendiamo Questo Questo Bello Non ho impianto questo Due La carne Bello Il volete Beh, Accompo Ma Annaggia ら putto Accompo Prendiamo Questo Nosso A Poi potevamo prendere un'altra patola per metterla Aspetta, perché non accorde? 8 cose per prendermi la mano Lo tengo qui Ecco Scusate che c'è sempre la punta Se vuoi vedere l'altro fondo Metto la carne Prendo l'ultima cosa Vediamo in domani Ecco Un uomo 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 Troppo Ok Like I Cuc Tra Un uomo Un uomo Vale tanto Il numero Spero che vi piaccia Era un piccolo tutorial Mi sono caricato uno, due, quattro Due, sei Uno Ah, raga Tiè, non vedo un altro Ciao, ciao